barella con una palla sensazionale per danfris lato corto dell'area di rigore sta arrivando a rimorchio turam eccolo qua l'uno a zero dell'inter marcus turam che gol che gol che ha fatto turam molto importante ma qual era questa celebrazione ma è marcus è il tuo gol questo qua sono io ecco questa è la celebrazione ecco questa è l'esultanza no a proposito inter benfica noi abbiamo visto a parte il gol bellissimo era la tua prima partita in champions con la maglia dell'inter primo gol gol all'esordio boato clamoroso ma a noi quello che ci colpisce di te è la tranquillità con il quale affronti tutto cioè come come fai è una squadra una squadra che mi aiuta a fare questo eventi che mi aiuta anche e sai al fine è solo calcio chi è quello che ti aiuta di più tutti tutti veramente ma c'è l'auti che vicino a me che mi aiuta veramente è un capitano straordinario è il calcio proviamo a fare il meglio che possiamo è un gioco alla fine a proposito di l'auti ti va di rivedere questo di rifare un'altra telecronaca veloce dai cominci tu sì 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 vediamo l'inter che riparte sempre con barella in profondità per turam che sgasa sulla destra di fronte a sé bremer turam dentro lautaro martinez l'uno a uno subito dell'inter è la tula ancora ancora una volta la tula bravi ma questa è un'azione che provate in allenamento tante volte sì e poi io sempre io che devo correre sulla forza perché sei il più veloce chi è che c'è più veloce di te in squadra nessuno pensa è vero no ma ti volevo chiedere una cosa anche qua tu stai affrontando comunque uno dei difensori più bravi in serie a e sempre tu fai la giocata tenti la giocata non hai paura di niente non è che non ho paura di niente ma sono attaccato il mio ruolo di provare di andare a puntare l'adversario di provare a far gol assist è quello che devo fare e questa è un'azione che avete già provato in allenamento questo questo è la vostra la tula il movimento di laut i primi gol è incredibile andare nella schiena di difensori per ripassare dentro credibile bellissimo bellissimo adesso però credo ci facciano vedere uno dei gol dei tuoi idoli giusto ecco questo qua i gol di adriano con l'udinese questo è un gol innanzitutto ti chiedo subito se è più bello questo o quello contro il milan nel derby tuo non è la stessa cosa lui è più lui è più un gol di solista io ero per più un gol di il bello nel mio gol era il tiro sì ma lui e tutta l'azione che è bello perché parte da solo fa la differenza su un difensore a due difensori davanti a lui e fa ancora gol ma questo è un gol che mi piace e poi tua napoli ha risultato come una vero e cosa ruberesti ad adriano ma si poteva prendere una cosa che veramente abbiamo di differenza il suo tiro del sinistro il tiro del destro e poi mi sa che abbiamo l'ultimo che è più una domanda perché sai allora di marco ha detto no lo volevo fare è presente il gol in spogliatoio cosa si dice cioè cosa pensa spogliatoio pensa che dimas non ha fatto a posto ma conoscendo dimas e la sua qualità la sua qualità io penso che dimas ha fatto a posto e anche se guardi veramente non su quest'angolo ok sull'altro angolo vedi che alza la testa guarda il portiere si vuol dire che quando alza la testa io penso che vede il portiere avanzato e fa gol ma in allenamento li fa mai così non li provo a volte quindi ci dobbiamo credere sì sì no per me ha fatto a posto poi ti faccio una domanda giusto cos'è mia io vengo allo stadio da tantissimi anni uno stadio così a stanziero così pieno così carico non lo vedevo penso da mai ah è vero da mai e poi soprattutto ci tengo a dire una cosa quando prendi palla tu si sente proprio una sensazione diversa negli spalti cioè tu hai portato una carica diversa a te piace giocare a san siro sì veramente dal primo giorno che sono entrato in campo a san siro è veramente i tifosi sono sono veramente incredibili penso perché ogni volta che c'è un'azione senti il rumore dei tifosi dietro di te che ti spingono e questo ti dà un'energia incredibile non so se lo sanno ma dovevano saperlo grazie marcus grazie 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 sono stati bravi